La parte relativa alla disabilità e chi ha un figlio o un parente disabile in casa sa che cosa vuol dire perché è un'ulteriore condizione, diciamo così, di aumento di costi, di assistenza. Abbiamo stanziato 400 milioni che è la cifra più alta degli ultimi sei anni. Poi uno può dire, non è sufficiente. Non è sufficiente, abbiamo tagliato la spesa pubblica, no, l'avete presi dal fondo sulla famiglia, cioè da quelli ai quali vi state dando, non ne va col gioco delle pregasse, sono tutti stelle bravissime.